ebbene io vi dico chiedete vi sarà dato cercate troverete bussate e vi sarà aperto nel silenzio della preghiera puoi tendere le mani per abbracciare la natura dio e gli altri esseri umani tuoi compagni questa accettazione significa non soltanto che sei pronto a tener conto dei tuoi limiti ma aspetti che venga qualcosa ma aspetti che venga qualcosa di nuovo per tale ragione ogni preghiera è un'espressione di speranza se non ti aspetti nulla dal futuro non puoi pregare tuttavia quando veniamo alla preghiera sembra che abbia che abbiamo più richieste che speranze questo non sorprende dato che preghiamo soprattutto quando lo richiedono circostanze molto specifiche e spesso momentanee quando vi è la guerra preghiamo per la pace quando vi è la siccità preghiamo per la pioggia quando arriva una difficoltà preghiamo per superarla quando gli amici sono malati preghiamo perché stiano bene spesso questa preghiera che possiamo chiamare di supplica viene considerata meno nobile della preghiera di ringraziamento e certamente meno nobile della preghiera di lode ma il problema è sapere se questa distinzione ci aiuta a comprendere che cos'è la preghiera la cosa importante nella preghiera non è se viene classificata come supplica ringraziamento o lode ma se è una preghiera di speranza o di poca fede la preghiera di poca fede ci fa restare legati alle circostanze concrete della situazione contingente al fine di guadagnare una certa sicurezza la preghiera di poca fede è piena di desideri che chiedono un adempimento immediato invece quando viviamo con speranza non ci lasciamo intrappolare dalla preoccupazione per come verranno adempiuti i nostri desideri in questo modo anche le nostre preghiere non saranno rivolte al dono ma colui che lo dà le nostre preghiere potranno ancora contenere altrettanti desideri ma alla fine non si tratta del fatto che un desiderio si realizzi ma di esprimere una fede illimitata nel datore di ogni cosa buona la speranza significa continuare a vivere in mezzo alla disperazione e continuare a cantare sommessamente nell'oscurità sperare e sapere che vi amore e la fiducia del domani e cadere addormentato e svegliarti di nuovo quando sorge il sole negli occhi di un altro e vedere che sei compreso finché vi è ancora speranza vi è ancora preghiera e sarai tenuto nelle mani di dio buona giornata finché vi è ancora preghiera e sarai tenuto nelle mani di dio buona giornata finché vi è ancora preghiera e sarai tenuto nelle mani di dio buona giornata